Salve a tutti e bentornati all'angolo della Libraia. Oggi parliamo del nuovo legal thriller di John Glisham, Il tempo della clemenza. John Glisham, classe 1955, originario dell'Arkansas ma trapiantato in Mississippi, si è laureato in legge nel 1981 ed ha esercitato a lungo come avvocato, anche dopo l'elezione alla Camera dei rappresentanti del Mississippi per i democratici, nel 1983. Glisham si è fatto notare come autore di legal thriller alla fine degli anni 80 e la pubblicazione di Il Socio nel 1992 lo ha reso un autore di fama mondiale, un vero e proprio re in questo contesto narrativo. Da allora la sua produzione si è comunque ampliata, basti pensare alla collana per ragazzi con protagonista Theodore Boone, al racconto In fuga dal Natale, ai diversi libri a spondo sportivo e dalla recente saga misteri ambientata a Camino Island. Con Il tempo della clemenza però l'autore torna, per così dire, al suo habitat naturale e riprende contesto e personaggi già presenti in E il momento di uccidere del 1988 e nell'ombra del sicomoro del 2013. Veniamo ora al tempo della clemenza. Clanton, Ford County, Mississippi, 1990. Dopo numerosissime scelte infelici ed errori madornali, Josie Gamble, a poco più di 30 anni, ha già avuto da due uomini diversi, Drew, di 16 anni, e Chiera, di 14. Priva di istruzione, con diversi arresti per spaccio alle spalle, senza alcuna famiglia su cui contare, da un anno convive, insieme ai ragazzi, con Stuart Coffer. Coffer è un vice sceriffo di Clanton, stimato da colleghi ed amici, notoriamente coraggioso e proprietario di una casa sufficientemente grande per tutti e quattro. Coffer è però anche un alcolizzato violento e brutale, picchia Josie fin dall'inizio della loro relazione, spesso alza le mani anche su Drew e riserva troppe attenzioni inopportune a Chiera. La situazione degenera in una notte di primavera. Coffer torna a casa a notte fonda, più ubriaco del solito. Mentre Drew e Keira sono rintanati, terrorizzati nella stanza della ragazza, i due adulti hanno una discussione. L'uomo picchia selvaziamente Josie, quindi sviene sul letto. Terminato lo scontro, i ragazzi escono dalla camera in cerca della madre. La trovano pesta, non riescono a svegliarli in alcun modo e si convincono che sia morta. Disperati, chiamano il 911. Nel lasso di tempo che intercorre tra la telefonata e l'arrivo delle forze dell'ordine, Drew entra in camera di Stuart, prende la pistola d'ordinanza e lo uccide. Quando i vice sceriffi prima e lo sceriffo Ozzy poi arrivano sul posto, quanto è accaduto appare evidente. Nei ragazzi, scioccati come sono, tentano in alcun modo di negarlo. Josie, che in realtà non è morta, viene ricoverata d'urgenza in ospedale. Drew viene arrestato. Il giudice News decide di affidare la difesa del ragazzo Gamble a Jack Briggans. L'affogato d'ufficio non è assolutamente in grado di gestire un caso tanto delicato, che coinvolge un agente di pulizia ed un minorenne accusato d'omicidio e quindi soggetto alla pena capitale. Briggans non è nuovo ai reati da pena capitale. Cinque anni prima, il caso Ailey, a sfondo razziale, gli ha portato non poca notorietà. Dopo aver tanto rischiato in quell'occasione, però, Jack non è affatto entusiasta di assumersi questo nuovo onere. È impegnato in un grosso processo da cui spera di ottenere un profico guadagno ed è poco incline a farsi coinvolgere in un altro caso scottante, con cui rischia di nuovo di mettere in difficoltà allo studio, se stesso e la sua famiglia. Ma conosciuti Drew, Josie e Keira, scoperti i fatti salienti, avviate le prime fasi del processo, Jack si ritrova dentro alla vicenda e nonostante tutto, ancora una volta, arriverà fino in fondo. Dunque, il romanzo è corposo e l'intreccio non presenta molti colpi di scena. Quasi tutta la trama si concentra sulla costruzione del caso giudiziario e del conseguente processo, tassello dopo tassello, testimone dopo testimone. Lo stile asciutto, privo di descrizioni ed introspezioni psicologiche, aiutano tuttavia a rendere la lettura agevole, se non proprio spedita. Il fatto poi di ritrovare i personaggi della Ford County, ben noti ai fan dell'autore, è un plus non da poco. Le tematiche trattate sono quelle relative alla violenza familiare e dalla pena di morte, ma l'autore si astiene dal dare giudizi diretti e lascia la possibilità al lettore di farsi una sua idea basandosi quasi esclusivamente sui fatti. Consigliatissimo a tutti gli amanti del genere. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci risentiamo presto qui all'angolo della libraria. Ciao!